Musica Buongiorno, benvenuti a Studio 24. È la giorno 1 delle misure più restrittive della storia della Repubblica applicate sul tutto il territorio nazionale. Lo ha deciso il Governo, lo ha deciso nella serata di ieri, lo ha comunicato al Paese il Presidente del Consiglio Conte. In buona sostanza le misure messe in campo per quella che era la zona arancione vengono estese a tutto il territorio nazionale. Da qui parte il racconto della puntata di oggi, un racconto che faremo e lo ringrazio con il professor Dario Manfellotto. Buongiorno, benvenuto a Studio 24, il Presidente della Federazione dell'Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dolorosa e dolorosa una decisione di questo tipo, era anche necessaria e inevitabile? Dolorosa e assolutamente, gli aggettivi sono giusti, necessaria e inevitabile. Molto importante aggiungerei perché è proprio dal controllo della diffusione possibile del virus attraverso queste misure che può arrivare la soluzione del problema. L'altro aggettivo che utilizzerei però aggiungendo il punto interrogativo è utile? E' anche utile? Quando lo scopriamo se sarà utile? No, sicuramente è utile perché noi abbiamo la riprova che questa misura che è stata fin dall'inizio adottata nella regione di Wuhan ha poi portato al controllo dell'epidemia come si sta vedendo dai dati cinesi. Noi per adesso abbiamo avuto invece, soprattutto negli ultimi giorni, una circolazione libera del virus per dei comportamenti assolutamente inappropriati e devo dire anche delittuosi che sono stati commessi da persone che hanno girato, hanno cambiato regione, sono tornati nelle loro città mettendo a rischio i loro familiari e se stessi. E' una cosa estremamente grave. Ha utilizzato il termine delittuosi, vuol dire che è proprio grave un comportamento di quel tipo? Io non sono un giurista, però la legge prevede dei reati specifici per chi in queste occasioni non solo non si attiene alle disposizioni del governo quindi ha un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche perché può procurare danni alla collettività. A proposito di questo, poi faccio il primo giro con le nostre inviate, ci sono delle possibilità di movimento nelle zone del nostro paese emergenza legata a bisogni lavorativi, necessari spostamenti per motivi di salute, tutto da spiegare, tutto da certificare, anzi autocertificare. Allora, noi non siamo il paese dei doveri, professore, ci basta l'autocertificazione, saremo così immaturi, le chiedo. Guardi, lei ha anticipato una cosa che avrei voluto dire, perché l'allegato che c'è a questo decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera è un allegato che mette alcune eccezioni per la mobilità. Ora mi rendo conto che c'è, però noi siamo un popolo fantasioso, diciamo, e quindi immagino che ci saranno mille scuse che verranno portate, accampate o utilizzate per poter circolare in modo incontrollato. Io credo che veramente si debba fare ricorso all'intelligenza dei singoli e anche allo spirito di appartenenza, anche le parole che ha detto il Presidente Mattarella qualche giorno fa, ognuno deve capire che ognuno di noi deve fare il suo ruolo, è stare molto attento e soprattutto deve pensare alla collettività generale. Allora, vado da Silvia Balducci. Buongiorno Silvia, intanto te ci hai raccontato quella zona rossa che da ieri, anzi dall'alto ieri, non è più rossa, è stata arancione per 24 ore e ora è assolutamente in linea con il resto del paese. Dove li trovi e dacci il racconto di questa mattinata? Buongiorno a voi, io mi trovo a Codogno e proprio da qui, dall'Odigiano, in questo momento così duro per la Lombardia e per tutto il paese, arrivano i primi due segnali distensivi. Innanzitutto il fatto che il 38enne di Codogno, definito paziente 1, è finalmente uscito dalla terapia intensiva e respira in modo autonomo. E poi la contrazione, il rallentamento dell'infezione, proprio in questo territorio, nell'Odigiano, dove tutto è cominciato. Qui però nessuno vuole abbassare la guardia, anche perché non si vogliono vanificare i sacrifici fatti in quelle due durissime settimane di quarantena. Allora guardate, oggi è martedì ed è il giorno del mercato a Codogno, ma non ci sono ambulanti, non ci sono bancarelle, benché il decreto che è stato approvato sabato notte permetterebbe a tutti di venire qui e vendere la propria merce. Ecco, questo è un comportamento responsabile, una serrata che è stata di fatto condivisa con il sindaco di Codogno per ricordare a tutti che la battaglia non è ancora vinta e che serve essere attenti, restare in casa e limitare al massimo le occasioni di incontro. Roberto, ti restituisco la linea. Grazie Silvia. Già, professore, non abbassare la guardia, non è questo il momento. No, 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 non bisogna abbassare la guardia. I segnali, anche le proiezioni dell'infezione ci dicono che non bisogna abbassare la guardia. Non siamo arrivati ancora verosimilmente al picco, allo zenith, oltre il quale poi si comincia a scendere come numero di nuovi casi. Ancora non è stato raggiunto, quindi veramente bisogna fare grande attenzione. Se mi posso permettere una citazione. A me veniva in testa, sentendo l'altro giorno il Presidente Mattarella, quello che disse Kennedy tanti anni fa, quando si presentò alla Nazione, non chiedete cosa l'America può fare per voi, ma cosa voi potete fare per l'America. E qui è quello che bisogna chiedere. Non chiedere quello che lo Stato, l'Italia, possono fare per voi, perché si sta facendo veramente tanto, ma quello che ognuno di noi, nel suo piccolo e nel proprio lavoro, può fare per il nostro Paese e per i beni di tutti. E sono sostanzialmente il rispetto delle regole che ci ha dato il governo. Il rispetto delle regole. Professore, le chiedo ancora una cosa. Noi abbiamo raccontato, Silvia Badducci, Giuseppina Testoni, che è già pronta da parola, dalla quale vado tra qualche istante, l'epidemia che si sviluppa in tre regioni all'avanguardia, dal punto di vista economico, anche dal punto di vista sociale e della sanità pubblica e anche privata. Però quella pubblica ha dato veramente una grande prova in queste settimane, in questi giorni. Anche quella privata, mi lasci dire. E anche quella privata, assolutamente. Dico quella pubblica perché l'abbiamo maltrattata tanto negli ultimi anni, abbiamo tagliato fondi, noi abbiamo dato le risorse necessarie, però quelle tre regioni sono tre avanguardie. Ora c'è tutto il resto d'Italia. Siamo pronti? Il centro-sud è pronto? Il nord sicuramente è all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, di tutte le dotazioni di una struttura sanitaria. Il centro lo è, in qualche zona del sud c'è qualche maggiore carenza, però io credo che tutti quanti ci stiamo veramente adoperando per essere pronti a fronteggiare la possibile discesa di questa epidemia con questa entità che poi si è verificata nel nord anche al sud. Io parlo per quello che riguarda la mia realtà, che è il Lazio. Devo dire che tutte le ordinanze anche di applicazione e le indicazioni che sono state date sono molto forti, molto corrette e molto importanti. Quindi se ci si attiene si riesce a controllare il fenomeno. Il problema secondo me è uno solo in questo momento, che effettivamente, come si diceva pure ieri sera, diceva il professor Ricciardi, consulente del Ministero, c'è un problema di carenza di dispositivi di protezione. Questo è veramente... Ce lo traduce? Dispositivi di protezione ce lo traduce? I dispositivi di protezione sono le mascherine chirurgiche, quelle che vediamo adesso sullo schermo, ma anche le mascherine di protezione individuale filtranti, che si utilizzano nei contatti con i pazienti positivi o sospetti, così come la tuta, i doppi guanti e altro, che sono effettivamente dispositivi carenti in questo momento. Cioè dobbiamo tenerli e riservarli a casi limitati, mentre invece sarebbe molto necessario che tutti quanti li potessero utilizzare. Mi riferisco per esempio anche ai medici di medicina generale. I medici di famiglia che hanno negli studi ogni giorno 20, 30, 40, 50 persone che vengono, non hanno in questo momento dispositivi di protezione. Questo è sicuramente un grosso limite. Sì, perché poi abbiamo visto come negli ospedali e nei pronti soccorsi sia tutto più complicato, e come la diffusione del virus poi possa accelerare. Codogno è stato un esempio da quel punto di vista. Torno, purtroppo, aggiungo, torno da letra un secondo. Giuseppina Testoni, Padova, per darci quel racconto, quello di quella città, una delle città in prima linea. A te. È una delle città in prima linea, Roberto, è una delle città che già da qualche giorno ormai sta vivendo quello che si sta verificando in tutta Italia con queste cosiddette zone di isolamento. Ti do subito una notizia dell'ultima ora, ci è stata comunicata proprio poco fa, perché hanno cancellato tutti i treni dell'alta velocità diretti a Milano e a Napoli. Non fermano più qui a Padova, naturalmente nel corso delle prossime edizioni del giornale vi daremo informazioni più dettagliate, ma come potete vedere anche da questa tabella delle partenze, i treni per Milano e per Napoli non ci sono più da questo momento. Qui a Padova, alla stazione, sono in corso i controlli sui passeggeri, a tutti viene chiesto di far vedere i propri documenti, di dire dove stanno andando e per quale motivo. Proprio in questo momento, lo potete vedere, la Polizia Ferroviaria sta effettuando un controllo su una passeggera in partenza, si sta assegnando tutti i dati, il documento di identità, dunque la residenza, dove sta andando, il perché dello spostamento, se si tratta di un motivo di lavoro, motivo sanitario, le persone naturalmente sono ancora un po' spaesate, chiedono informazioni. Purtroppo vi devo testimoniare anche che ci sono ancora degli atteggiamenti di superficialità in qualche modo. Poco fa, per esempio, abbiamo intervistato una ragazza che ci ha detto candidamente io sto andando a Roma, vediamo se mi fanno partire, le abbiamo chiesto come mai sta andando a Roma, è residente lì, no, sono residente in Veneto, ma è una vacanza che ormai avevo prenotato e vediamo insomma come andrà. Questa è la situazione, Roberto. Grazie Giuseppina Tessoni, accanto al professor Manfellotto, che è il presidente, lo ricordo, della Federazione dell'Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, ci ha raggiunto il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Cancellari. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Ha proprio scosso la testa, ha guardato anche il professore, no, quelle cose no, cioè avevo prenotato la vacanza, vado a Roma, no. No, ma allora, scene di irresponsabilità purtroppo, devo dire che ne sto vedendo davvero parecchie e mi dispiace perché io spero che gli italiani, insomma, diano anche una rappresentazione all'estero, prima ancora che all'interno del nostro paese, di grande maturità, di grande responsabilità. Siamo un grande popolo che deve affrontare questa emergenza con sobrietà, ma soprattutto anche con grande impegno e con grande responsabilità. Se questo non avviene, e chiaramente sono degli episodi isolati, però danno il metro di come ci sia davvero gente che stia sottovalutando, pericolosamente a questo punto devo aggiungere, delle questioni e dei comportamenti che invece devono essere molto, molto, molto attenzionati e soprattutto rispettati. Quella di ieri è stata una scelta da parte del governo che si è resa ovviamente necessaria proprio perché dovevamo in qualche modo soccombere a quella che è stata una mancanza, secondo me, di responsabilità da parte di tanti. La scena, ad esempio, della stazione di Milano con i tanti cittadini che sono scesi verso le regioni del sud, la dice lunga su come in questo momento ci sia una grande apprezzione da parte di tanti, ma soprattutto però ci sia anche questo approccio un po' così leggero e che chiaramente non ci possiamo più permettere. Quindi adesso con questo decreto abbiamo messo, credo, in sicurezza, ma soprattutto stiamo mettendo al lavoro le forze dell'ordine che devono cominciare a diventare, con i controlli sempre più stringenti, devono cominciare a diventare un punto fermo. Io quello che voglio dire ai cittadini è continuate ad avere fiducia innanzitutto nelle forze dell'ordine, che sono quelli che tutelano la nostra sicurezza e che quindi sono la rappresentazione dello Stato per le strade. E queste non sono nemici, ma sono amici della popolazione, sono persone che chiaramente fanno il lavoro e lo fanno in maniera reggia. E poi soprattutto di non avere paura, però di rispettare alla lettera quelle che sono tutte le prescrizioni che il Governo sta dando in questo momento. Professore, io le chiedo aiuto, ma che dobbiamo dire di più? Cioè abbiamo detto in tutti i modi che devono stare a casa, l'ha detto in tutti i modi il Presidente del Consiglio, praticamente tutti i segretari di partito, di tutte le forze, le istituzioni, i medici, che dobbiamo fare di più? Il mondo dello spettacolo che si è mobilitato? Ma a un certo punto se non bastano le raccomandazioni e gli inviti scattino delle sanzioni. Voglio dire, se non c'è il rispetto della legge ci devono essere delle sanzioni. Se uno circola e non può circolare deve avere una multa oppure deve essere in qualche modo punito. Non lo so, ripeto, io non sono un giurista, però credo che la legge vada fatta a rispettare in tutti i modi. Senta, Vice Ministro, oggi il Presidente del Consiglio incontra le forze d'opposizione. Onestamente tanta unità di intenti non l'avevo mai vista, però questo è un segno positivo, voglio dire, se tutti fanno la propria parte, se tutti collaborano. Però c'è un tema che ci accompagna ad alcuni giorni, la necessità di mettere una personalità forte a guidare il sistema. Si parla di un commissario, poi il nome al di là della persona, il nome da dare a questo ruolo lo troveremo. È d'accordo? O il Governo ce la fa da solo? Allora, queste sono quelle sfide nelle quali non è mai corretto dire non ho bisogno di nessuno, ce la faccio da solo, perché più persone danno una mano, due braccia in più fanno sempre comodo. Una testa che pensa, che ragiona, che propone un'idea, fa sempre comodo. In più fa sempre comodo. Quindi è chiaro che non ci deve essere, e non c'è da parte del Governo, chiaramente nessuna presunzione. Noi non vogliamo minimamente mettere all'angolo nessuno. Anzi, devo dire che io ho apprezzato molto quella che è stata l'impostazione del Presidente Conte, che ha più volte invece richiamato anche le opposizioni a dare il loro contributo, aprendo le porte, ascoltando, facendoli sedere ai tavoli, nei quali chiaramente si prendevano le decisioni. È chiaro però che l'assunzione di responsabilità non viene spartita con le opposizioni. Ce la prendiamo tutte noi che facciamo parte del Governo, che siamo il Governo di questo Paese e che è come giusto che sia. Quindi non è un dividere le responsabilità, è un condividere le idee e le possibilità di poter prendere decisioni. Per la fine la responsabilità rimane solo la nostra. Questo secondo me calma anche gli animi in un momento in cui questo è un terreno di facile conquista elettorale. Si potrebbe con molta faciloneria cominciare a fare polemiche, come purtroppo devo dire che su alcuni casi ci sono anche state. Non vanno però bene al Paese perché si tramutano in un dibattito da bar fra cittadini e non invece producono l'effetto sperato che invece è quello di far prendere e far fare le buone pratiche a tutti. Quindi io spero che l'incontro di stamattina e tutto quanto sia proficuo. Sulla scelta del commissario dico questo, io sto apprezzando molto il lavoro che sta facendo Angelo Borrelli alla protezione civile, secondo me in maniera molto sobria e sta portando avanti davvero con grande impegno tutto quello che gli è stato demandato. Se ci sarà bisogno e se le forze di opposizione e se le forze di maggioranza proporranno il nome di un commissario, chiunque esso sia, va bene. L'importante è che si facciano quelle cose che servono al Paese. Oggi serve ridare sicurezza ma soprattutto serve dare adesso nell'immediato risposte perché tanti sono quelli che dicono ok chiudiamolo sto Paese, fermiamoci per 20 giorni però sono altrettanto preoccupate le persone che dicono io lo chiudo ma poi chi mi darà da sostenermi, chi mi pagherà lo stipendio... Poi su come farlo ripartire arrivo tra un attimo. Prima al professor Manfellotto, Cancellere, ho chiesto della capacità di tenuta del nostro sistema sanitario. Abbiamo visto tre regioni del nord, lei la sua regione la conosce molto bene, no? Si era candidato per guidare la Sicilia. È pronta la Sicilia ad affrontare un'emergenza con quelle dinamiche che abbiamo visto nel nord Italia? Allora la Sicilia, do un dato, la Sicilia ha poco meno di 500 posti di terapia intensiva. E' chiaro che se ci fossero stati i numeri della Lombardia saremmo andati chiaramente in grande difficoltà. Ecco, è risaputo insomma che il sud col nord paga un dazio in termini di gap non solo infrastrutturali ma anche di sanitari che è enorme. Però, ecco, adesso non vorrei essere io quello che fa polemica, però ricordiamoci che negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 30 miliardi di euro alla sanità pubblica. I vari governi che ci sono succeduti purtroppo hanno effettuato questo governo... Lo ricordavo io di come la sanità pubblica è stata, ho utilizzato il termine maltrattata negli ultimi anni. Torno da voi tra un secondo, giro del nord Italia che chiudiamo con Milano, con Chiara Paduano, per vedere come si controlla, come si sta lavorando sui controlli. A te Chiara, buongiorno. Buongiorno Roberto, sì, la Lombardia e Milano sono zone protette ormai da domenica. Noi ci troviamo in corso Buenos Aires, dunque nel centro dello shopping milanese. Qui ci sono diversi negozi che hanno deciso autonomamente di tenere chiuse le serrande. Lo ricordiamo, i negozi, gli esercizi commerciali non fanno parte dell'ordinanza che obbliga alle chiusure. Hanno deciso di farlo per accogliere quell'appello alla responsabilità sociale che da settimane arriva dalla regione Lombardia e che ora è steso a tutto il paese. Poi ci sono i bar e i ristoranti che dalle 18 devono abbassare le serrande e ci sono i controlli proprio per verificare che vengano e siano attive tutte le precauzioni come le distanze di un metro previsti proprio dal decreto della presidenza del Consiglio. Una Milano quasi deserta per i milanesi, invece sono diverse le persone che noi vediamo comunque camminare questa mattina in centro. In una regione, lo avete ricordato da studio, dove i numeri di questa epidemia continuano ad aumentare, ancora dati preoccupanti. Solamente ieri, 1280 contagi in più in 24 ore. Per la prima volta un numero a quattro cifre. Dunque il rischio è quello di un collasso del sistema sanitario che l'assessore regionale ha chiarito per il momento regge con l'ampliamento delle terapie intensive, ma davvero importante restare a casa. Le persone possono uscire dalle loro abitazioni solo per comprovate necessità come quella del lavoro oppure di un'emergenza sanitaria. In una città dove è aperto il confronto con la regione in queste ore, che guarda il modello Hong Kong, cioè la chiusura dei negozi per un mese a fronte però di un aiuto e di un sostegno economico importante. Dunque su questo si sta discutendo in regione e in comune nelle ultime ore. Se non ci sono domande a te. No, grazie Chiara, buon lavoro professore. Lei chiedeva se sono pronti, siete pronti, come ci stiamo preparando. Io vorrei fare una piccolissima fotografia se lei mi consente. Allora, se un paziente non ha sintomi, una persona non deve andare a pronto soccorso, neanche dal medico, contatto telefonico. Se compaiono i famosi sintomi... Ce li ricorda intanto? Come dice? Ce li ricorda i famosi sintomi? Sì, i sintomi sono la febbre, soprattutto febbre alta, una tosse stizzosa, insistente, molto forte, inspiegata, una riacutizzazione, diciamo, di tipo influenzale che appare improvvisamente e che si manifesta per lo più in pieno benessere. Ecco, questi sono i sintomi di allarme, soprattutto nelle persone che vengono dalle zone che sono, diciamo, il centro dell'infezione e dell'epidemia. Allora, se una persona ha questi sintomi, allora deve fare un contatto telefonico. Al telefono ti dicono sì, vai in ospedale. L'ospedale come si prepara? Allora, arrivato in pronto soccorso, il paziente viene mascherato, viene messo nel percorso degli isolati e viene effettuato, se ci sono le indicazioni e i criteri pubblicati, viene effettuato il test, il tampone per il coronavirus. Da quel momento il paziente è isolato e noi medici e gli operatori dobbiamo essere protetti con i famosi dispositivi. E tutto il tempo che serve per fare i due tamponi di sorveglianza che vengono fatti, rimane il paziente isolato. Quindi è un periodo critico. Poi, tampone negativo, se il paziente sta bene, va a casa. Se il paziente invece continua ad avere questi sintomi, viene ricoverato in ospedale. Se il paziente invece è positivo, allora scatta l'isolamento. Questo concetto dell'isolamento nelle camere singole si sta superando, perché i pazienti sono ormai talmente tanti che vengono messi in una coorte di pazienti che hanno tutti la stessa infezione. È un po' la logica, dicevo, del sanatorio, in cui si mettono i pazienti con la stessa infezione in una stessa corsia o addirittura in uno stesso ospedale. Nel Lazio hanno aperto la Columbus dedicata soltanto ai pazienti con Covid. Stiamo parlando di riaprire il vecchio Forlanini, chiuso quattro anni fa, che era il sanatorio per le malattie tubercolari. I pazienti che devono essere poi intubati vanno nelle rianimazioni. Quelli che non hanno bisogno di assistenza respiratoria vengono ricoverati nei reparti di degenza. Io, come presidente degli internisti italiani, segnalo che il 70% di questi pazienti stanno nelle medicine interne, che sono presenti in tutti gli ospedali. E chiudo subito perché ho parlato troppo. Non ha più senso neanche parlare di aumentare malattie infettive, pneumologie o altro. È l'area medica che in modo globale deve occuparsi di questi pazienti, che possono avere soltanto il Covid-19, ma possono essere diabetici, malati di reni, cardiopatici, bronchitici cronici, eccetera, 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 che hanno anche l'infezione. Quindi approccio globale. È cambiata un po' la struttura e la modalità di approccio a questi pazienti? Poi, il viceministro ce lo ricordava, c'è anche da farlo ripartire, questo paese. Non possiamo, la sensazione, pensarci dopo, perché se ci pensiamo dopo è già tardi. Ieri il tonfo delle borse, Milano ha perso l'11%, stamane provano un rialzo, un rimbalzo, come si dice in gergo. Tutto da fare, da vivere, con un combinato disposto, anche legato alla crisi petrolifera. Lei e il Movimento avete presentato una legge speciale, modello Genova, significa cosa per le infrastrutture? In questo momento in cui il paese sta vivendo, accanto alla crisi, chiaramente sanitaria, all'emergenza sanitaria, purtroppo c'è un'emergenza economica che sta cominciando a produrre i suoi effetti adesso. Io temo che diventeranno molto più drastici e drammatici col passare del tempo. Suppongo, spero che quella sanitaria si risolva più presto, quello lì invece del timore che sarà lo strascico finale è molto più consistente. Cosa succede? Che secondo me dobbiamo dare una risposta di ampio respiro, non solo andare a tamponare dove ci sono le emergenze, chiaramente, i 7 miliardi e mezzo del decreto andranno a mettere in pari qualche situazione, probabilmente dovremmo fare un ulteriore intervento per garantire a tutti quelli che chiuderanno questo spettro di marzo, dovrà essere risarcito a tutti quanti. Perché ci sono tanti lavoratori che rischiano il posto, che andranno in cassa integrazione, autonomi, che perderanno l'ottimità. Io ho dei piccoli esercizi commerciali, che poi alla fine sono il grande tessuto economico del nostro paese, dal panificio al piccolo ristorante fino ad arrivare alle botteghe artigiane, a coloro che vendono abiti e quant'altro. È chiaro che dobbiamo dare una risposta anche a loro, che spesso sono aziende a conduzione familiare, magari non hanno dipendenti, però sono loro stessi sostenuti da quell'attività. Ed è chiaro che se chiude una sala cinesca del genere non si sta portando più il pane in quella casa, e quello diventa un problema, ovviamente tutti lo dobbiamo affrontare. Dall'altro lato, alle misure diciamo tampone, dobbiamo dare invece una spinta a questo paese. Da parte mia, cioè sul ramo delle infrastrutture, noi abbiamo una grande possibilità, cioè quella di fare diventare questo momento di difficoltà una grande opportunità di questo paese. Quindi ad un momento straordinario ed eccezionale in negativo, dobbiamo rispondere in maniera straordinaria ed eccezionale in termini di idee. Quindi quello che stiamo sostenendo è prendiamo Genova, che è stato un modello di riferimento, c'è un'Italia veloce, pratica, un'Italia che in qualche modo ha dato al mondo intero quella immagine plastica di paese che non solo non si arrende di fronte alla difficoltà, all'evento tragico che c'è stato sul Ponte Morandi, ma sta rispondendo invece costruendo un'infrastruttura moderna e lo sta facendo velocemente, senza troppi legacci burocratici. E allora, visto che quel modello lì ha funzionato, trasportiamolo. Però lì c'è un problema. Se la politica comincia a litigare su la lista delle opere qual è, in quale regione dobbiamo intervenire e in quale no, se la lista poi dopo aver fatto la lista delle opere dobbiamo fare la lista dei commissari, quindi ci dovrà essere la spartizione politica delle nomine e quant'altro, lì non ne usciamo più. Cioè lì fra un anno stiamo ancora a parlare di chi e di cosa dobbiamo fare. L'idea che stiamo portando con il Movimento 5 Stelle è questo. La lista sono i contratti di programma di ANAS e di Rete Ferroviaria Italiana. Ci sono infrastrutture stradali e ferroviarie già interamente finanziate. La cifra è 109 miliardi di euro da sbloccare. I commissari li facciamo fare direttamente agli amministratori delegati di queste due aziende e abbiamo risolto il problema. Noi non dobbiamo decidere chi deve fare e cosa dobbiamo fare. E immediatamente interveniamo sotto un cappello normativo che è la direttiva comunitaria che legifera in tema di codice degli appalti. Allora, torno a dovete un secondo perché da qualche minuto ci sta ascoltando il Presidente dell'Anci, il Sindaco di...